Parliamo a distanza di vent'anni chiaramente di prima di tutto due situazioni completamente diverse per quanto riguarda il paese, l'economia, la pubblica amministrazione, gli strumenti di comunicazione, quindi è cambiato veramente il contesto del mondo. All'interno del sisma anche qui due dimensioni diverse, l'ultimo sisma è stato molto più esteso, tanti comuni e tante difficoltà. Quindi parliamo veramente di due eventi a una grande distanza di tempo ma che significa anche distanza da molti punti di vista. Questo non toglie che questa occasione del ventennale si è naturalmente trasformata anche in un momento non solo celebrativo per ringraziare, ricordare quello che è avvenuto, le vittime, le persone che hanno lavorato, i volontari e ringraziarli per quello che hanno fatto per la nostra regione ma diventa naturale poi anche un ragionamento che possa servire per l'oggi. Lo spazio che i sindaci hanno ancora oggi c'è rispetto a tante attività, azioni, secondo me è cambiato come dicevo prima, proprio il sistema istituzionale, sono stati anni non facili per tutti gli enti locali, meno personale, meno risorse. Quindi si è arrivati all'evento sisma con enti che già erano fortemente messi dura a prova da questo cambiamento. Questo non toglie che il lavoro che si sta facendo è quasi sempre un lavoro fatto insieme di squadra dove ci si divide l'attività e si cerca di portarla avanti. Una parte iniziale molto centrale, un'evoluzione che sempre più si sposta verso i territori proprio per andare incontro a questo desiderio di partecipazione alla ricostruzione.